Ho conosciuto Ezechiele Ramin, un amico, un compagno dal seminario e poi anche in Brasile e Rondonia. Quando è stato ucciso io ero in campo vocazionale con i giovani. Interessante che questo fatto ha provocato e suscitato in tre giovani il desiderio di partire e dedicarsi alla missione a vita. Poi io sono ripartito, era a Padova e sono andato in Rondonia sei mesi dopo che lui è stato assassinato. In luglio del 1985. Ricordo un fatto che mi ha toccato. Alla prima anniversario della morte di Ezechiele era mio, sono andato con un pulma, con una cinquantina di giovani. Nella processione eravamo in 5.000 persone, tutta la gente di Cacoao, Rondonia, non le famiglie. Mi è rimasto impresso questo fatto. Io passavo in silenzio dietro la croce alla maglietta di Ezechiele perforate dalle pallottole macchiate dal suo sangue. Una bambina, 4-5 anni, così tira la gonna alla mamma e dice, eh mamma, mamma, cos'è tutta sta gente? Cosa succede? E la mamma gli fa, ssss alla bambina, zitta. E padre Ezechiele che passa. Ecco una lettura contemplativa, profetica e missionaria della figura di Ezechiele. La mamma dice alla bambina, attenta e padre Ezechiele che passa. Ed è quello che succede oggi a tanti giovani, a tanti missionari, alla chiesa brasiliana, ma anche alla chiesa di Padova. Con l'inizio del processo della beatificazione di Ezechiele Ramin, martire della carità, martire della giustizia, della pace e della missione. Attenta, è Ezechiele che passa. Tutto questo movimento che avviene adesso è Ezechiele che rinasce nei missionari, nei giovani e nella missione in Brasile.